ciao ragazzi oggi recensione del mio nuovo power bank mi è arrivato da poco lo sto provando da qualche giorno non mi posso lamentare questo è il mio vecchio power bank questo è il nuovo molto piccolo molto compatto e veramente mi trovo bene ricarica veloce da 22 watt virgola 5 per l'iphone poi abbiamo 18 watt per i samsung 5 watt anche per i dispositivi per esempio orologi cuffiette o altro molto utile che infatti l'ho cambiato l'ho preso nuovo che questo qua ormai questo vecchio lo tengo da circa due anni due anni e mezzo e non mi trovo più bene come una volta farò anche un video di confronto tra il vecchio power bank e il nuovo quale saranno le differenze comunque rispetto al nuovo il vecchio lo utilizzerò sicuramente ancora un po perché c'è ancora un po di voltaggio sapete come sappiamo i power bank vengono si usano specialmente per all'aperto se non avete un caricatore appresso sicuramente un power bank può servire assolutamente infatti io lo utilizzo per andare a mare lo utilizzo anche per stare in giro al lavoro diverse cose infatti è molto utile però rispetto a questo qua questo ha una ricarica da 5 watt massima invece questo fino a 22 watt è un'ottima soluzione ora andremo a vedere ci sta nella confezione che faccio una recensione su questo nuovo power bank grazie eccolo qua il power bank che amo piccolino compatto si tiene bene in tasca schermo lcd con la possibilità di vedere la percentuale anche di ricarica dietro abbiamo possibilità di collegarlo direttamente al telefono in cui avete la possibilità quando giocate di aprire è una cosa molto utile anche utilizzare per strada il power bank piccolino rispetto al grande le differenze sono minime dal punto di vista diciamo di voltaggio perché hanno un voltaggio tutte e due da 10.000 mila ampere però vi ricordo questa abbiamo la possibilità di arrivare a 22 watt per l'iphone per i samsung 18 watt e per cuffiette o altro tipo di cose fino a 5 watt sicuramente uscirà una recensione tra tutte e due tipo di power bank che utilizzo fino a 5 watt allora cosa esce nella confezione la confezione esce un cavo usb tipo c piccolino c'è anche una piccola custodia per mettere anche in power bank all'interno veramente utile sarebbe la custodia del del piccolo power bank ma molto potente marca iniu che è una marca che al momento non conosco però sembra un'ottima marca io tengo l'S9 plus che ha la possibilità di ricaricare circa 22 ricariche più una mezza ricarica che vi permette direttamente dire un telefono sempre carico e sempre alla portata di tutto infatti se andate a mare se andate in qualche parte qualche posto importante sicuramente è molto utile cosa possiamo dire questo power bank allora io mi sto trovando molto bene allora parliamo se riesce a mettere a fuoco due porte usb di uscita output in cui avete la possibilità di caricare i telefoni due e poi abbiamo la input che sarebbe la usb tipo c per il power bank in cui ci mette per circa tre ore abbiamo il foglio delle istruzioni che ora vi faccio vedere la ricarica da 20 watt se mette a fuoco ecco qua fast charge 20 watt arriva tre ore se avete un caricatore da 5 watt 6 ore e se avete un caricatore da 5 watt con uscita un watt ci mette 10 ore di ricarica perciò io come sto notando ci mette circa a 20 watt 18 watt con un caricatore veloce cinque minuti e ci mette circa due ore due ore due ore e mezza per caricare il power bank perciò sono molto utile per invece se avete un caricatore più lento sicuramente ci metterà come scritto le istruzioni circa cinque ore sei ore per la ricarica completa però vi ricordo potete anche caricarlo un'oretta arriva circa 40 50 per cento e vi fa in base anche a telefono che avete se sempre avete una batteria da 2000 miliampiero 3000 potete arrivare sicuramente a sera tranquillamente infatti questo tipo di caricatore lo trovate su amazon a un prezzo di 20 euro infatti il prezzo è molto buono per essere un caricatore portatile ottimo abbiamo non abbiamo la ricarica wireless sarebbe appoggiare il telefonino sopra ricarica senza fili però comunque avere una ricarica molto veloce mi serviva sicuramente rispetto al mio power bank vecchio che ha una ricarica da 5 watt in conclusione è un power bank molto veloce ricarica circa due volte al giorno il vostro telefono in base anche alla batteria in base come lo utilizzate il telefono sicuramente è un'ottima scelta poi non guardate a me che ne tengo due di caricatori power bank e ve lo consiglio specialmente se andate a mare in montagna o se andate a fare qualche viaggio sicuramente questo power bank molto piccolo si tiene anche bene in tasca vi faccio vedere subito in questo modo schermo lcd avete la possibilità anche quando giocate di tenerlo in questo modo che è un'ottima soluzione ma il telefono non ce l'ho presso se non vi faccio vedere come inserirlo ma è facile basta mettere il filo a caricare e appoggiare il telefono qua sopra e il gioco è fatto non è certificato in acqua fosse bello ragazzi se i power bank fossero certificati alla compi ip67 o ip68 sarebbe un'ottima soluzione però questa soluzione fino a mo non ho visto nessun power bank che ha questa funzione di avere la come i telefoni o le casse questo tipo di cosa non ho messo anche sulle casse io penso sarebbe un'ottima cosa mettere anche su un power bank immaginare andare a mare con il power bank a caricare sott'acqua sarebbe una bella cosa ma credo anche per la corrente non lo faranno mai poi non lo so comunque il schema è molto grande come come schema lcd e molto come anche molto piccolo tenere una capienza di 10.000 mila ampere per ricaricare un telefono non solo ad ente che telefono come vi ho detto anche anche cuffie casse e altro sicuramente molto utile vi ricordo non è 22 watt come è per i samsung infatti solo per l'iphone arriva a 22 watt per i samsung a 18 watt e per il resto sapete che vi ho detto tutto ragazzi con questo è tutto vi saluto da tecno gg ci vediamo a confronto tra marca chamast e marca i new in cui mettere a confronto questi due grandi power bank per la fine sono tutte le due da 10.000 mila per con tutte e due lo stesso tipo di prezzo vedremo qualche piccola differenza tra i due quale consiglio acquistare perché questa sui 20 euro invece questo sta sui circa 15 euro 20 euro pure questo sicuramente è un'ottima soluzione come l'ha visto si è spento prima questo rispetto a questo perché è stato molto più veloce circa 30 secondi per spegnere questo power bank circa 35 secondi sicuramente per voi queste differenze non sono nulla per me però sono molto importanti anche in velocità di un telefono ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi